Ricca giornata di eventi, quella di domani sabato 17 dicembre a Castel San Vincenzo, giornata che culminerà con la cerimonia di intitolazione del centro dell'Alta Valle del Volturno a Borgo della Lettura. Con Castel San Vincenzo salgono così a sette i comuni della provincia di Isernia che hanno aderito al network turistico-culturale nato nel 2015 in Abruzzo e in continua espansione sull'intero territorio nazionale. Il ricco cartellone di appuntamenti previsti per domani prenderà il via alle 15.30 con l'apertura delle botteche artigiane lungo le vie del paese. Alle 17 poi nella sala polivalente Notardonato si terrà l'inaugurazione del Borgo della Lettura. Gli eventi proseguiranno alle 18.30 con lo spettacolo dei fuochi da Largo Mainarde al centro storico e si concluderanno alle 20 con la cena nel borgo.